Un cordiale saluto ai nostri telespettatori e bentornati su Formula One Story. E siamo ancora qua, eh già! Bentornati su Formula One Story, questa serie continua in perterrita con la stagione 1957. E allora, prima di iniziare, metteteci un bel like di supporto, passate sui nostri social con i link sotto in descrizione, comprate una nostra maglietta dallo store per supportarci e adesso iniziamo col racconto. Si riparte per una nuova stagione, siamo nel gennaio del 1957. Per un primo momento sembrava certa la conferma di Juan Manuel Fangio alla Ferrari, ma nell'anno precedente, nonostante la vittoria del titolo ridato, c'erano state molte incomprensioni tra l'argentino e la Ferrari. In particolare con il Drake, un amore tra i due che non è mai veramente sbocciato. La questione divenne insostenibile quando non si raggiunse l'accordo economico tra i due. Le strade si separarono. Nel frattempo si vociverava di un passaggio di Stilling Moss alla Juan Manuel, il che liberava un posto alla Maserati. Ed infatti sarà proprio lì che il campione argentino deciderà di accasarsi. Una scelta che poi si rivelerà vincente. Fangio aveva sempre la perspicacia e la fortuna di avere sempre tra le mani la vettura giusta al momento giusto. Il 13 gennaio si corre la prima gara stagionale a casa di Fangio a Buenos Aires in Argentina. La Maserati porta qui un'evoluzione della sua 250F, affidandola a Fangio, Berà e per questa gara anche a Stilling Moss, visto che la One Wall non sarà presente a questa gara. Oltre a Menditeghi e a Shell. La Ferrari però non è stata a guardare e porta qui la sua nuova vettura, la 801, una derivata diretta della D50 della Lancia, che elimina i vistosi serbatoi supplementari ai lati della vettura per un unico serbatoio più piccolo alle spalle del pirota. Questo per favorire la distribuzione dei pesi. I piroti della Rossa per quest'anno saranno Castellotti, Musso, Autorn e Collins e per questa gara anche José Froilan González. Solo le due case italiane sono presenti qui, per un totale di iscritti che è di 14. Protagonista, come sempre qui, sarà il caldo torido, con punte di 39 gradi, toccati durante le prove, che provoca notevoli problemi sia ai piloti sia alle vetture. Ci si aspetta una grande battaglia tra le Maserati e le Ferrari, ma quest'ultima invece deluderà abbastanza le aspettative, soffrendo notevolmente le elevate temperature. A segnare la pole position, infatti, è Stilling Moss, davanti ai compagni di squadra Fangio e Berat. Sarà una prima fila totalmente Maserati. La prima delle Ferrari è quella di Castellotti in quarta posizione, che precede i compagni di squadra Collins, Musso e Autorn. Completano la top ten, Mendy Teghi, Shell e González. Tra il primo e il settimo classificato però ci sono solamente due secondi e due decimi, il che è un distacco per l'epoca abbastanza contenuto, e quindi per la gara regna l'assoluta incertezza. Il Gran Premio si terrà non sulla distanza dei giri, ma sulla lunghezza di gara, infatti sarà data bandiera a scacchi allo scadere delle tre ore. La domenica alle ore 16 locali viene sventolata la bandiera dallo starter. Stilling Moss ha la partenza migliore di tutti, ma dopo poche centinaia di metri subisce un guasto all'acceleratore che lo costringe subito ai box, dove perderà diversi giri dai primi. Nel frattempo in testa è andato Jean Berat, incalzato dalla Ferrari di Castellotti e Autorn, mentre Fangio al momento è solo quarto. Al terzo giro Castellotti scavalca Berat e si porta al comando. Forse la Ferrari aveva un potenziale inespresso durante le prove. Castellotti prova subito la fuga, senza però riuscirci. Dopo sei giri Berat torna di nuovo in testa. Nel frattempo però sale in cattedra Peter Collins, che dal quinto posto si ritrova a secondo, andando addirittura in testa al giro 13. Castellotti nel frattempo rientra per una sosta non prevista, facendo salire Fangio in terza posizione, alle spalle di Castellotti e Berat. Collins rimane in testa fino al giro 26, quando un guasto alla frizione lo costringe all'abbandono della gara. Nel frattempo Fangio, molto guardingo fino ad allora, capisce che è il momento giusto per iniziare a spingere. Scavalca Berat e si porta al comando. La frizione delle Ferrari però è un grosso punto debole, infatti cede anche sulle vetture di Hothor e Musso, che si ritirano. Rimangono sole tre vetture alla squadra di Maranello, quelle di Castellotti, terzo, quelle di Gonzales e di Perdisa, ma molto attardate. Perdisa viene fermato per cedere la sua vettura a Collins, il quale però darà forfait al giro a 65 a casa del caldo. Sarà poi Von Trips a guidare la vettura per la parte finale di corsa. Castellotti sta cercando di recuperare su Berat quando subisce il distaccamento della ruota posteriore sinistra e va a sbattere sulle protezioni, senza, per fortuna, nessuna ferita. Non ci saranno altri cambiamenti, con Fangio che vince per la quarta volta consecutiva a casa sua davanti ai compagni di squadra Berat e Mendy Teghi al primo e unico podio in carriera. Dopo cinque mesi si arriva alla seconda tappa stagionale, sulle stradine del tortuoso circuito cittadino di Monte Carlo. Nella pausa però c'è stato un tragico incidente. Eugenio Castellotti ha perso la vita durante delle prove a Modena. Il pilota italiano si è schiantato ad oltre 200 km orari ed è morto sul colpo. Le cause dell'incidente non furono mai chiarite del tutto. Fa qui il suo debutto stagionale la One Wall, che con una macchina rinnovata e stealing moss al volante, nutre grandi speranze. La seconda guida sarà Tony Brooks. Presenti anche le Conno, le BRM e la Cooper con Jack Bravan, che però nutrono molte meno speranze di vittoria. La Maserati deve fare a meno di Jean Berat, infortunatosi durante delle prove per la Mille Miglia. Le qualificazioni sono una serrata battaglia tra Fangio e Collins, i due protagonisti dello scorso mondiale, con l'argentino che alla fine la spunta di soli sei decimi sull'inglese. Le One Wall Pelot dimostrano la loro competitività, conquistando il terzo e quarto posto con Moss e Brooks. Alla partenza scatta bene Moss, che affianca Fangio al gasometro. I due rimangono appaiati fino alla Saint-Devot, dove l'inglese prende definitivamente il comando. Seguono Collins, Shell e Brooks. Al secondo giro Collins scavalca Fangio, mentre Moss tenta già la fuga. Ma forse Sterling spinge troppo. Infatti nel corso del quarto giro va a sbattere nella chicane dopo il tunnel, fermandosi di traverso sulla pista. Collins e Moss non fanno in tempo ad evitarlo, urtandolo e finendo anche loro anzitempo la gara. Fangio invece, come sei anni fa, riesce a districarsi dalla vettura, guadagna un vantaggio sul primo diretto inseguitore, Tony Brooks. Dietro di loro si compone un terzetto composto da Mandy Teghi, Von Trips e Shell che si danno battaglia. Fangio guadagna sempre di più su Brooks, mentre al giro 23 Shell si ritira per aver danneggiato la sospensione su un marciapiede. Von Trips al giro 29 viene richiamato per cedere la vettura a Collins. L'inglese riparte, ma si rifermerà solamente due giri dopo. L'abitacolo era su misura per il tedesco e lui semplicemente non c'entrava. Al giro 50 anche Mandy Teghi in terza posizione va a sbattere alla chicane, finendo la sua gara. Fangio domina, mentre Von Trips dietro è risalito in terza posizione. Davanti al sorprendente Bravan con la sua Cooper di soli 1500 cm3 di cilindrata. A cinque giri dal termine anche la Ferrari di Von Trips si deve ritirare per problemi al motore e il pilota australiano si ritrova addirittura in terza posizione sul podio. Ma a tre giri dal termine il motore climax della sua Cooper cede e pone fine al suo sogno. Davanti invece nessun problema per Juan Manuel Fangio che taglia il traguardo da assoluto dominatore della gara. Secondo è Tony Brooks che coglie il primo podio in carriera per sé e per la One Wall. Terza arriva l'americano Gregory su Maserati. È il primo americano ad andare sul podio se si esclude le 500 miglia di Indianapolis. È un'ennesima prova di forza di Fangio che sfrutta al meglio il potenziale della sua Maserati. Sono due vittorie su due per l'argentino mentre per la Ferrari è notte fonda. Ma la gara ha dimostrato che per le squadre italiane c'è un nuovo e temibile avversario da abbattere. La One Wall che infatti nel corso dell'anno si dimostrerà molto competitiva. E finisce qui un'altra puntata di Formula One Story. Grazie mille per il supporto ragazzi. Grazie per la visione di questo video. Vi voglio bene. Ci vediamo. Alla prossima. Ciao! Ciao!